Corce Navagni, una vittoria sul campo di Trieste che vi dà la matematica certezza della permanenza in Serie 1? Sì, beh, era quello che cercavamo, abbiamo fatto una bruttissima partita, però insomma alla fine è quello che conta il risultato, per cui va bene così. Quindi un campionato tutto sommato positivo il vostro? Ma direi che in campo sicuramente positivissimo per un motivo molto semplice, che con la situazione che abbiamo, abbiamo giocato per metà del campionato con una sola straniera, credo che vada a fatto un applauso alle ragazze per i risultati che abbiamo ottenuto. Progetti per il futuro? Questo bisogna chiedere alla società, per quanto mi riguarda non riesco, non so esattamente la situazione societaria, non la conosco, o meglio la conosco in parte, per cui vedremo i dirigenti cosa intendono fare. Per quanto mi riguarda non è una certezza che rimanga Vigarano, anzi. Giulia Gombac, la ginnastica chiude con una sconfitta, l'ultima partita in casa? Sì, e mi dispiace molto per questa sconfitta, perché comunque diciamo che era l'ultima spiaggia per poter salvarsi dal campionato di Serie A1, e niente, comunque è stata una partita che comunque era abbastanza fattibile, però purtroppo le altre ragazze della squadra avversaria hanno dimostrato di essere più gruppo e ce l'hanno fatta vincere. Sì, è giocata la pari per due quarti, poi nel terzo quarto cosa è successo? È successo che comunque anche noi mentalmente e fisicamente eravamo più stanche, quindi la partita ha preso il sopravvento. Coach Tomei è una SGT che ha detto per due quarti, poi cosa è successo? Abbiamo preso un break il terzo quarto e fisicamente ci hanno un po' sovrastato, soprattutto la loro giocatrice di colore, ci ha preso tantissimi rimbalzi, ci ha segnato da sotto, ci ha creato problemi di falli alla nostra lunga e niente. No, direi che abbiamo retto più di due quarti, abbiamo retto oggi per la prima volta quasi 30 minuti. Se ci fosse ancora una parte di campionato magari arriveremo a 40, però oramai purtroppo il campionato è andato. Ecco, ultima partita di Ragusa sabato? Beh, ultima partita andiamo per giocarcela, ripeto, dei piccoli miglioramenti chiaramente sono stati visti dalla squadra. Certo che Ragusa è prima classifica o seconda, però non andiamo certo in gita turistica, se no magari il posto lo sceglievamo noi dove andare in gita, allora andiamo a Ragusa, ci giochiamo la partita e cerchiamo di finire questo campionato dignitosamente. Anche perché la matematica ancora non è da spacciata a SGT, in quanto il vieto ha perso? Siamo penalizzati secondo me da un regolamento abbastanza rivedibile perché io me la vorrei giocare a play out con Orvieto o anche con le altre, invece non ce la faranno, probabilmente non ce la faranno giocare. Speriamo di sì, speriamo di andare a fare una buona partita a Ragusa e cercare di strappare i due punti. Durante la fine della partita ha avuto qualche commento un po' vivace con l'abitraggio? No, vivace no, ho detto il mio pensiero, loro addirittura su tante cose erano d'accordo, dicevo soltanto una cosa, che a livello femminile bisogna fischiare tutti i contatti, perché se no le donne purtroppo con i contatti non sanno giocare a palacanestro, non è uno sport femminile, è uno sport maschile, loro infatti mi hanno detto allora bisogna fischiare in maniera diversa, certo, gli uomini vanno fischiati in un certo modo, le donne vanno fischiati in un altro modo, se no faremo 30 punti a partita, 40 punti a partita e non solo noi quest'anno, perché anche Umbertide che è una signora squadra domenica scorsa ha fatto 30 punti, la gente si allontanerà da vedere il basket femminile. Allora vogliamo bene al movimento o non vogliamo bene al movimento? Se lo capiscano bene, ma lo dovrebbe capire soprattutto la federazione. Bruneli, una matematica a salvezza quella di oggi raggiunta sul campo di Trieste che vi dà la piena soddisfazione? Sì, ce l'abbiamo fatta a non fare play-out e questa è una grande soddisfazione, anche se diciamo che fare play-off sarebbe stata una grande opportunità, ormai sfumata da tempo, ma siamo contenti anche di avercela fatta con le nostre forze senza aspettare altri risultati. È un campionato che quindi vi mette in salvo con la giornata di anticipo? Sì, giochiamo l'ultima divertendoci e speriamo che comunque vada, ci saranno sempre nuove prospettive.